Pensieri. Le parole spesso non ti vengono, ma i stati d'animo sono innumerevoli. I miei, i tuoi, i nostri pensieri rimarranno tali. Il loro rincorrersi, sovrapporsi, destano diversi stati d'animo, danno la felicità o rendono infelici. Pensieri, 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 non si tramutano in parole o se lo fanno vengono fraintesi. Un solo pensiero rimane fermo nel mio cuore. È l'amore per la mia libertà di pensiero.